Buongiorno, sono Giuseppe Renon, vicepresidente dei Ladin da Gosalto. Si troviamo in piazza e qua sulla sinistra è la sede del gruppo Ladin da Gosalto. Il gruppo Ladin da Gosalto è stato formato ufficialmente dieci anni fa. Nel tempo ho fatto un gruppo di balo, un gruppo folk, che l'estate poi si sono raggruppati con Riva e Oltac. Sono Mario Bressan, presidente dell'Unione di Ladin da Gosalto. Noi altri praticamente avevamo cominciato, circa nel 2000, un gruppo che si era qua, per cercare di macinare quella che era, diciamo così, la cultura Ladina quanto il nostro paese è qua. La roba più importante di Isaria era stata il museo, perché andando in giro per le case qua in giro, si riuscì a portare a casa tanti oggetti, robe varie, che se no li potevamo via. Abbiamo messo il museo e come tale, di fatti, durante il periodo, soprattutto estivo, che l'ho aperto, se avete tanti denti, insomma, che vieni a vederlo, è stata una soddisfazione, anche per noi altri, questa roba qua. Una quella, e dopo, ad esempio, abbiamo organizzato, perché questo qua è il paese di Confero, mi sono uno di qui che ha fatto il Confero, e come tale, che c'è anche quella roba là, che sta quella che ha salvato, più che altro, i tempi in Rio, mi mi dico, dal Settecento, è sempre andato a fare cosa. Il Confero sarebbe qui, che una volta, quando arriva alla fine di ottobre, che aveva finito, di struttare su la colpa, a portare in testa la parchera che serviva durante l'inverno per le vacche, e partì in giro per l'Italia, e che ne era tanti, che ne era anche in Francia. E quindi noi, l'estate anche per quel che successivamente abbiamo pensato, perché non scomparisce anche quel, di fare il corso, prima di impagliatura, diciamo, di impagliare questa cariega, e dopo di fare la cariega addirittura da tocco e legno, come che si usava, che si andava via a fare conza. Però bisogna dire che quel lavoro là, l'estate quel che la salvava, il paese qua, dalla popoletà che era, perché non era niente qua, e quindi, con l'ingegno che aveva, allora si salvava anche la maniera là, insomma, ecco. Se c'è un museo, qua è una sala dedicata al CONFA, diciamo, al mestiere, che fa una volta quasi tutti i nostri paesani qua, perché non era altro da fare. Questa, per esempio, è una delle biciclette vecchie, che dovrebbe andare in giro per il mondo, l'altro del Caret, ma questo è l'odoprea ancora negli anni Ottocento, che partì qua, e girì all'Italia, si carichi di paia, di la ferraza, come che si dicevano gli altri, che si arriva a tutti gli arnesi. Questa, per esempio, è come una morsa, dove si tirì, diciamo, le gambe delle cariega, e fraccando quei piedi, venì a tirare, e venì a tirare lì le gambe delle cariega, che dopo le venì a sbussare, sempre con trappone a mano, e con le trivelle che le ha, per mettere gli scalini. E questo è un lavoro che venì fatto da tutti, quasi qua, nel nostro paese, sia da Gossal, che da Tisera, che da Riva, e il TAC. Allora, questo è un Caret, di quei, ancora dell'Ottocento, diciamo, che dopo si è un passai a quei che si è un taccadriolo, la bicicletta, allora era più facile di girare. E questa, per esempio, è la Craz, come che se la chiamiamo una volta, la sua cassetta di ferro, la sega, e la paia, per imparare cariega. E si gira il paese, da una casa all'altra, dove si trovava il lavoro con questo. In giro, per il lavoro, l'era tanto, perché non è che fosse stato a quei tempi fabbriche di cariega. E allora il lavoro, naturalmente, però, bisognava girare il mondo. Per esempio, mi pare, mio nono, ancora del 37, è andato in Francia, e è stato in Francia a fin del 40. Però, io ho mandato a casa a schede, a farsi solo a casa. Dunque, è stato in beneficio per i nostri paesi. E così, tanti dei nostri paesani, diciamo, quei che fanno questo lavoro. Dopo, pian piano, l'è andato scomparendo, perché le fabbriche di cariega sono venute fuori, una dopo l'altra. E alla fine, e dopo, è diventato anche un lavoro un po' troppo, di massa sacrifici, e pian piano l'è stato dismesso. In un'altra stanza, qua del museo, abbiamo praticamente messo in mostra quel che erano i vestimenti di una volta, abbiamo messo altri costumi autentici. Dopo abbiamo recuperato tutto quel che era, diciamo, la vita proprio qua, di una volta, se non andrà scomparendo. E qua, un metodo interno, c'è di quelle che erano le robe di stare, andare a scegliere, andare sopra il bosco, e dopo che, ok, ora, insomma, tutto quel che era, a quel tempo là, le canaipa, l'era la canaipa, l'era il coso, l'era il link, che qua, lì si fava le camise con l'in, e dopo l'era la canaipa che la serviva per fare il stramazzo, che era qui, non è che se ne era, non mi era. E tutta la vita, praticamente, noi abbiamo cercato di recuperare quella maniera qua, e se voi guardate qua in giro, vede quante, oh Dios, se se dovesse guardare tutti con la riade che sta stata qua, ma insomma, è già stata una bella roba che ho fatto, secondo me, e anche nei confronti di tutta la venta che viene qua, anche qui del paese, e tutti contenti. Ecco, ad esempio qua, volevo mostrare quelle fotografie là, quelle tutte dell'Ottocento, proprio originali, e sono stata tan contenta, e ho ringraziato anche la venta che me la date, perché anche loro, i che c'engono quelle robe là. e per esempio qua noi avevamo due fotografie là, che le doi baglie, anche quali erano le baglie qua, in Sassava, anche andare a fare le serve via per Milano, e allora le doi baglie là, noi per esempio, di casa mia a Merona, la fare la baglia via per Milano, è stata quella che mi aiutava tanto, a farmi crescere, perché noi siamo in tanti, in Sì, e era fatica insomma quel tempo là, ecco, e dopo che volevo farvi vedere, era per esempio il discorso dei costumi, qua per esempio le costumi che era nel primo del Novecento, che lei questa fotografia qua, dopo qua si passa al 1930 a noi, e dopo praticamente gli ammazzinusti qua, dopo noi, solo io sì, discorrendo fra noi, di fare un gruppo folkloristico, e siamo tutti insieme con il TAC e Riva, questo qua, le tralla diciamo noi, che è una roba che le è difficile a cattarla in giro, anche perché in tei musei, magari stenta a metterla in una roba del genere, eppure qua da noi, questo qua, è quello che mi serviva, quando veniva al bagno una volta, e ogni casa, l'aveva questo tralla esterno, tra la quale, questo qua, le originalità che mi viene da ridere, lei che l'ha anche la salla pari bocce, insomma, che già lì è questa qua, e quella la pari grandi, in modo, è l'originale questo qua, in modo che quando la mamma l'aveva bisogno, la portava il bocce, e chi aveva da farlo, insomma, questa ad esempio, è una fotografia, che hanno fatto noi, con i costumi che avevamo adesso, e lei quella, che praticamente, i costumi che avevamo qua noi, noi i compagni di qui, di Oltac, o di Riva, ma più o meno, io là, allora noi siamo metti insieme, e sono riusciti a fare questo, gruppo, diciamo, che è fuorcolistico, e andiamo in giro a fare anche a noi, quel che ci sono modi da fare naturalmente, dopo, ad esempio, avevo organizzato, anche il corso dei merletti, per le femmine, un cinetto, anche la roba là, ed è stata una roba di successo, perché le, si è iscritto, dalle tosatelle piccole, dai cinque anni, fino a dalle sani, e anche dei migranti, insomma, anche quella è stata una bella roba, e insomma, va che di qua, e va che di là, dal 2000, che sono rio, sono arrivati, a dieci anni passati, e qua, spero anche di avere qualche dono, che mi aiida, ci depisano, ecco, una roba che vogliamo fare, sta che venga, appena che possiamo, il più presto possibile, è quella di mettere a posto una calchiera, che queste calchere, le era quelle di chi fia la calcina, che una volta qua, le case, le vengono sbiacchierate tutte, con questa calcina, e dopo, volessero anche, volessero fare, ma spero, le fare anche, il coso, il carbon, col poillat, perché qua, allora, erano sette, diciamo così, fosine di Brusafer, tra le quali, anche mio nonno, mi veniva fuori dalla famiglia di Brusafer, e quindi, il poillat, so che le, e anche quelle servivano, sia per la fosina, e sia, anche per scaldarsi, in casa, con le bronze, che fanno da questo poillat, amici, ringrazio ancora a tutti quanti, e spero di vedere se, qualche, hanno fatto queste robe qua, sani, e stare bene, sani, arrivederci alla prossima, e poi, grazie a tutti, Grazie a tutti.